Dove fino a qualche anno fa in Italia venivi reso conosciuto per la storia strappalacrime e non per quello che hai fatto Nonostante tutto Faccio sempre questo esempio, se un ragazzo fa un incidente e perde la gamba Però con una gamba poi decide di scalare l'Everest Dobbiamo concentrarci sul fatto che abbia scalato l'Everest con una gamba Non sul fatto che abbia fatto un incidente che era anche al di fuori Non è una cosa che ha deciso lui E quindi secondo me bisogna focalizzarsi su cosa ha fatto l'atleta E in Australia secondo me questa cosa avviene di più Conosco diversi ragazzi e poi giocatori anche di basket in carrozzina Come Giulio Una cosa che a lui gli dava molto fastidio era nel caso della sconfitta Che sui giornali magari bravi lo stesso Oppure c'era questa sorta di compassione o pietismo Quando in realtà no, se abbiamo perso, bastonaci come bastoni tutti gli altri Anche a me questo pietismo, questa compassione dà molto fastidio Grazie mille